Dramma per Demet Ozemir. La notizia è tristissima. Jeanne Yaman sciocca. Demet Ozemir è un'attrice turca che ha ottenuto il successo in Italia con la famosa sopopera Die Dreamer, le ali del sogno. L'abbiamo vista nei panni della dolce Sanem, che ha conquistato il pubblico insieme a Jeanne Yaman nel ruolo del tenebroso fotografo. Purtroppo in queste ore non sta vivendo dei bei momenti felici nella sua sfera privata. E ciò ha spiazzato coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi. La notizia sta circolando sul web e si sta diffondendo a macchia d'olio. Ecco cosa c'è da sapere sull'attrice. Ma prima di scoprirlo ricordati di iscriverti al canale per essere sempre informato e vedere tutti i nostri nuovi video. Iscriviti ora. Nata a Izmit il 26 febbraio del 1992, Demetho Zemir è un'attrice, ballerina e anche modella turca. Dopo il divorzio dei genitori all'età di sette anni si è trasferita a Istanbul e ha reso la danza un suo lavoro nel corso di diversi anni. Tuttavia in un secondo momento si è dedicata anche alla recitazione e si è fatta conoscere nel pubblico italiano con il ruolo di Sanem nella famosa sop'opera turca Le ali del sogno. Ha ricevuto il premio come miglioratrice e ha stupito tutti anche per le sue doti canore. Ma per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2021 ha ufficializzato la sua relazione con un cantante di successo in Turchia, Oguzkan Kok. Dopo un anno, il 28 agosto, hanno deciso di convolare a nozze. Un russuoso resort situato nel prestigioso quartiere Sarijer di Istanbul ha fatto da sfondo al loro lieto evento. Ma purtroppo pare che ci siano già dei seri problemi di coppia. Ne ha parlato l'investigatore dei social Alessandro Rosica. I due dormono in due stanze da letto separate. A confermare questa notizia ci sarebbe anche una terza persona che in quella casa c'è stata e come. Stessa cosa accade quando i due dormono fuori, ad esempio hotel e proprietà di amici. Tempi duri quindi per i neosposi che nonostante il matrimonio continuano ad essere al centro del gossip. Le fonti dirette, inoltre, mi confermano un rapporto freddissimo, privo di movimenti passionali, nonostante siano a casa senza fotografi. Ecco quello che ha scritto in un post sul suo profilo Instagram. Il loro matrimonio è stato definito quello dell'anno, però sembra che abbiano già una crisi da dover affrontare. Per il momento non è stata ancora confermata questa notizia. Fatto sta che i fan sperano che possano risolvere i loro problemi nel migliore dei modi. Dal punto di vista professionale, The Metta ha ottenuto ulteriori soddisfazioni. Ha avuto un ruolo nella serie Dunayala Benim Aramda di successo, disponibile su Disney Plus. E a breve uscirà su Netflix la commedia romantica Love Tactics. Inoltre, insieme al ballerino e coreografo Onur Al-Sankaka, si cimenta spesso in fantastiche performance che assicurano tantissimi like e commenti positivi. Inoltre, insieme al ballerino e coreografo Onur Al-Sankakaart, si cimenta spesso in fantastiche performance che assicurano tantissimi like e commenti positivi. Insomma, The Metta, in parole, è una vera professionista. E tu? Ti sei iscritto al canale come ti ho detto prima? Se non l'hai ancora fatto, fallo ora, perché altri video interessanti stanno per arrivare. Ti aspetto! Grazie!